In questi ultimi anni, in questi ultimi dieci anni, grosso modo, quante relazioni importanti ha avuto? In generale, così un po' nella sua quotidianità, quanto è importante tenere in considerazione i sentimenti degli altri? Cosa può causare un problema nella sua vita, nella sua quotidianità, non soltanto qua? Senta, in generale, si è mai sentito come se gli altri volessero un po' danneggiatola? Quanto pensa che sia stata giusta la sua vita? Qualcuno le ha mai detto che lei è, come dire, molto attato, forse quasi ossessionato dal sesso, dalla pornografia o anche dalle prostitute? Senta, come classificherebbe il suo comportamento sessuale deviante? Come la fa sentire il fatto di partecipare a un percorso per autori di reato sessuale?